E dalla gloriosa sede vintage di ETV Marche ubicata ad Ancona in via Merloni 9 per capirci la via con le buche più chic di Ancona al punto tale che ci vuole una Jeep per arrivarci senza rompere le gomme con l'ausilio di attrezzature di assoluta avanguardia tecnica come la bistecchiera elettrica dell'Eurospin usata come trasmettitore e il boiler dell'acqua calda di Dante e Vigiani di San Biagio usato come antenna di trasmissione inizia una nuova puntata disastrosa ma anche divertente di quelli del primo piano Che presentazione stamattina! Una roba grossa! Ma chi ti scrive i testi Chris? Ma che è? Io mi avvalgo di autori veramente incredibili Ma davvero? Veramente, non abbiamo dubbi Buongiorno a tutti! Ho fatto l'annuncio da poco Ecco, Cristiano! Devo andare avanti con la scena delle presentazioni? Dai dai! Aspetta, proviamo! Vediamo! Allora il Justin Bieber, De Candia, De Nualtri, Luca Marchetti Justin Bieber? No, te prego! Dai! No, te prego! Te prego proprio! Au, au, au! Vabbè! E dai! E la bionda bionda, là dove le galline hanno anche i freni Promo Fania, la bionda Antonia Lamberoli Eccola qua presente, buongiorno! Ciao! Come sei bella, come sei bella! Ma siamo tutti bellissimi stamattina, anche tu Chris? Abbiamo dormito tutti un'ora di più Ah, davvero! Infatti stamattina c'era qualcosa che non tornava Dico, ma perché sono così rilassato e riposato che sono le sette della mattina? E infatti erano... No, le sei! Vabbè, lasciavo perdere, sopra comunque problemi I nostri orari, peraltro, qui io ho un orologio davanti e è rimasto alla vecchia ora Fa già le 11.03 secondo lui, quindi abbiamo solo un'ora di trasmissione Ma giustamente ha fatto una presentazione degna di quell'orologio, quindi credo che... Eh sì, sì, infatti Comunque in questi periodi qua, in questi cambi dell'ora tra un giorno e l'altro La paura per chi ha la sveglia nel cellulare è sempre quella che il cellulare non cambi l'ora E quindi o ti sveglia un'ora dopo o ti sveglia un'ora prima Esatto E io infatti questa mattina ho fatto così Guarda, ho due generazioni di cellulari a confronto Praticamente abbiamo il classico smartphone che ha preso l'ora giusta Quello ha fatto tutto da solo Vabbè, non importa E qui abbiamo il classico, quello che carichi una volta a settimana, quello vintage Insomma, come la nostra sede Quello che non muore mai E questo qui fa l'orario sbagliato, vedi? Quindi alla fine... Quello come il computer di Anto, più o meno Guarda, il mio computer stamattina, già appena acceso Mi ha mandato un messaggio che praticamente non si è capito Adesso dovrò andare un attimo a vedere un po' Nulla di buono, nulla di buono Vabbè, insomma, ma che c'è fretta? Ma no, ma che... Non importa, non importa Non ci importa Tutto bene, buona domenica, buon sole, una giornata meravigliosa Visto, che bello Siamo sparati tra l'altro in tutte le Marche sul canale 12 di Etv Marche E siamo in onda anche su Radio Center Music nella provincia di Ancona Speriamo!